Sono imprenditore perché ho fondato un'impresa sociale con mio fratello Pierluca e missionario perché abbiamo qualcosa da voler dire, da portare, no? Vi fa ridere questa idea di che contro il Papa, di Gesù la Santità, cortesemente, lui chiede una cosa, non è che può scrivere la prefazione del mio libro? Quando ho otto anni ho visto mio padre per la prima volta a partire con mia sorella e mio fratello in Africa e là ti fai due domande perché ti chiedi dove è andato mio padre? Poi tornava dopo un mese con dei video che registrava, prima volta in Tanzania, nel 98, io avevo otto anni e ho detto ma chi sono questi bambini che giocano, come giocano con me, con mio padre? La mia vita ha preso una svolta a 17 anni quando ho capito che darsi per gli altri è una cosa bella, non perdi nulla, quello che apparentemente ti sembra una perioda di tempo o qualcosa che è magari più grande di te, in realtà se lo vivi un passo alla volta, lo vivi insieme a qualcun altro, questo ti forma dentro. A cura di Giulio Gaudiano! Io sono un imprenditore missionario, possiamo dirla così, che significa tutto, significa niente forse, però mi piaceva quando mi hanno chiesto ma tu cosa fai nella vita, perché ancora qualcuno lo capisce. E vabbè, sono un imprenditore perché ho fondato un'impresa sociale con mio fratello Pierluca e missionario perché abbiamo qualcosa da voler dire, da portare, no? Però facendo un passo indietro, io sono originario di Bari, provincia di Bari, in realtà di Monopoli, ho una famiglia di due fratelli, una sorella e un fratello, due genitori. Questo è il contesto in cui ho vissuto, è un contesto dove ho sempre imparato, vedendo dagli altri a testimonianza, la bellezza del condividere, del dare, la gratuità, in particolar modo con i più poveri e questo mi ha molto segnato perché quando ho otto anni ho visto mio padre per la prima volta partire con mia sorella e mio fratello in Africa e là ti fai due domande perché ti chiedi dove è andato mio padre. Poi tornava dopo un mese con dei video che registrava, la prima volta in Tanzania, nel 98, avevo otto anni, e ho detto ma chi sono questi bambini che giocano, come giocano con me, con mio padre? E allora questa cosa mi ha fatto partire, mi ha fatto scattare qualche cosa che però ho intuito nel tempo perché questi viaggi continuavano nel tempo, per cui la mia vita ha preso una svolta a 17 anni quando ho capito che darsi per gli altri è una cosa bella, non perdi nulla. Quello che apparentemente ti sembra una perioda di tempo o qualcosa che è magari più grande di te, in realtà se lo vivi un passo alla volta, lo vivi insieme a qualcun altro, questo ti forma dentro. Ecco perché oggi riesco a dire che sono un imprenditore missionario, perché l'imprenditore, nel frattempo ho fatto studio di economia, ho studiato questo, l'imprenditore è colui che deve avere la responsabilità di imprimere una forma, quindi dare un'impronta dove lui cammina, trasformando la società, lo può fare in due modi, o meglio o peggio. Allora il lavoro nostro è quello di fare le cose meglio, possibilmente, e sono in realtà un imprenditore sociale, perché quello che noi facciamo non lo facciamo attraverso il mito del denaro, no? Fare raccogliere soldi, arricchirsi, ma proprio quello che ho imparato nella mia vita, insieme agli altri, cioè cercare di fare il cosiddetto il bene comune. Quindi quello che io sono è in parte anche quello che faccio. Negli ultimi anni ci sono dei termini associati all'imprenditoria, all'imprenditorialità, che apparentemente vengono da altri mondi. Il primo l'hai citato tu, hai detto imprenditore missionario, quindi il concetto di missione, no? Gira tanto nel mondo del marketing e della comunicazione aziendale il termine mission, il termine missione. E il consulente di turno arriva e dice ma qual è la vostra mission? Collegato alla mission mi piace il fatto che c'è sempre una vision, una visione e questa visione che si attacca alla missione sembrano essere due cose delle quali le aziende vanno alla ricerca e personalmente mi destabilizza pensare che un'azienda possa avere una visione, una vision e una missione, una mission come entità impersonale. Perché penso sempre che la visione e la missione, la visione come capacità di avere, usiamo una parola un po' strana, discernimento sulla realtà, una visione quasi profetica su quello che sta succedendo e una missione, una chiamata ad agire in questa realtà, mi sembrano siano delle caratteristiche individuali e che solo la condivisione di queste all'interno di un'organizzazione possa creare quella che è la missione aziendale. Da dove parte l'essere missionario? Da te personalmente come individuo e quindi come imprenditore in secondo momento è proiettata sulla tua impresa o è un qualcosa che si può creare a tavolino? Come si fa a trovare una propria missione? Bisogna capire bene cosa intendiamo per missione. Nel nostro caso, nel mio caso, è un qualcosa di ricevuto perché missione, dal latino missio, si deve essere mandati, spero non a quel paese, ma mandati in qualche paese, in qualche regione dove tu puoi agire. Quindi nel nostro caso, missione non l'ho presa io, l'ho intuita, l'abbiamo intuita e ci stiamo credendo prima di tutto. Quale è il primo passo? Credere in quello che tu sei stato chiamato a fare e poi farlo. Quindi in questo senso sì. E poi è bello quello che dicevi perché io ho fatto, ripeto, economia, poi ho fatto mercati finanziari come studi e se è sempre, secondo me, sottovalutato l'oggetto sociale, che è poi un po' la mission, no? Perché l'oggetto sociale è la legge, se vogliamo, da applicare di un'impresa in questo caso, ma in generale anche a 360 gradi. Ora, se la legge è fatta male, nel senso che la legge è ingiusta, è chiaro che le mie azioni saranno ingiuste. Io su questo vorrei un po' sottolinearlo perché spesso ci si confonde qui e magari il passaggio è proprio legislativo, non è tanto economico. C'è un'economia oggi, che si potrebbe parlare all'infinito, però le cose che non vanno, spesso, è perché chi ha fatto la legge, quindi tu sei obbligato a obbedire a questa legge, è sbagliata, cioè ingiusta, più che sbagliata, perché poi il punto di vista è lo sbaglio. Quindi quando oggi parliamo di povertà, di miseria, che è un po' di quello che noi proviamo a occuparci, anche attraverso la tecnologia e l'innovazione, e perché abbiamo questo? Perché al principio c'è un'ingiustizia legata banalmente a chi oggi non ha da mangiare, io ho visto di tutto, anche in Sud America, Africa, insomma, non andare a scuola, che per noi può sembrare una cosa folle, in tanti paesi del mondo non è così, o ha l'acqua potabile, l'energia elettrica, allora queste cose sono cose impensabili oggi, eppure esistono, e sono milioni di persone. Allora lì dov'è che sta lo sbaglio? Chi sta sbagliando? Ecco questa domanda aperta non so rispondere forse, no? E quindi dobbiamo interrogarci, ecco perché la missione, perché c'è un bene più grande, tu hai fatto il discernimento, hai parlato un po' di, no? Che ti mostra un po' la via, e quindi a noi il discernimento, cioè la capacità di capire dove sta il bene e il male, è prendere quella strada del bene, no? Perché c'è una coscienza che ti bussa e ti dice, guarda, che ciò che tu hai visto, ora sei chiamato a rispondere, ecco cos'è la missione, è una risposta a quello che tu vivi. Poi ti puoi girare all'altra parte, puoi mettere pausa, no? Però la responsabilità ti rimane. Allora, soprattutto chi, a me piace sempre dire una frase di Spider-Man del film, no? Quando dice lo zio, attenzione che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per me oggi, oggi ho 34 anni, ho fatto studio, una famiglia bellissima, c'ho tutto, la mia responsabilità, il mio potere meglio è aver studiato, aver visto, aver incontrato migliaia di persone nel mondo. Quello è il mio potere, la forza dell'incontro, la forza di essere, qualcun altro diceva, no? Tu non sei più te stesso quando incontri qualcun altro, ma prendi parte della persona incontrata, quindi te, Giulio, eccetera. E questo è un potere, si è utilizzato bene per migliorare la vita degli altri, si è utilizzato meno bene per migliorare forse la tua, ma non quella degli altri. Hai fatto studi economici, hai studiato i mercati finanziari, come sei arrivato a diventare imprenditore? Quale percorso hai fatto? Una volta che tu hai studiato, quindi ho studiato alcune cose, poi ho avuto in particolar modo un'intuizione, la chiamo oggi, nel marzo del 2017, dove la vita, come dici tu all'inizio, è perfetto, alcune volte ci sono degli incontri che tu non ti spieghi, non è necessario sempre capire il perché, però cogliere questo regalo, perché il regalo sta dentro, non nell'incarto, quindi quando tu poi lo apri. Nel mio caso il regalo è stato la passione di un professore bravissimo, Antonio Natalienti di matematica, unita a una tradizione famosissima, napoletana, partenopea, del caffè sospeso. Queste due cose le ho vissute in pochi giorni, perché il caffè sospeso me l'avevano parlato al bar con degli amici, sapete, no? Quando tu offri un caffè al bar, la persona che verrà dopo, magari non se lo può permettere, quindi tu paghi il caffè anche per lui, no? E questo è un pensiero che non conoscevo. Qualche giorno dopo il professore mio, appunto, a Talienti, nel parlare di arbitraggio, che è una strategia che si fa in finanza, ha paragonato questa strategia a un comportamento legato al biglietto della lotteria. Quindi lui ci fece delle domande, e queste domande, per capire, mi sono sembrate molto molto simili al caffè sospeso, no? Dove il centro di tutto era la gratuità. Io ho pensato, ho detto, ma come sarebbe bello vivere un mondo ad economia sospesa? Cioè, non che tutto sia gratis, che è diverso, no? Ma tutto nella gratuità, cioè dove c'è un senso di responsabilità, di restituzione e di dono. Non di gratis, ripeto, di dono. Cioè, io ti do quello che posso, tu prendi e tu mi restituisci quello che puoi a tua volta. Quindi l'economia sospesa, che è proprio quello che ci muove, proprio la progettualità che noi affrontiamo, è proprio questa idea di poter portare il concetto del caffè sospeso a livello non soltanto microscopico, ma macro. Cioè, tutto un sistema può vivere i concetti, i valori della fraternità, del dono della gratuità, ad ogni livello. Il tema dell'economia sospesa mi ricorda una cosa che mi ha affascinato la prima volta che ho letto la copertina di questo libro, The Thank You Economy, l'economia basata sulla gratitudine. Perché la parola gratuità e la parola gratitudine in qualche modo sono legate. Nella mia testa, io ho un bar sotto casa, il raro Caffè Bistro, che è il luogo di grandi esperienze di podcasting, perché ogni tanto prima o mentre vado al bar avvio qualche diretta, tant'è che è nato sul canale Telegram di Strategia Digitale questo movimento dei caffettisti anonimi, che sono quelli che partecipano alle dirette, è nata quando vado a prendere il caffè. Cosa succede? Lì io pure lascio dei caffè sospesi e li lascio in un momento particolare della mia esperienza. Non lo lascio quando sto di fretta passando davanti al bar o quando prendo il caffè così perché devo tornare a lavorare velocemente. Li lascio quando sono grato per il momento che vivo attraverso l'azione del prendere il caffè. Quei momenti in cui ti prendi un caffè e dici ma ci voleva proprio, sai che ne lascio uno per un'altra persona. Nasce da un momento di benessere, di gratitudine. Questa cosa mi ha stimolato a pensare che a volte, anche rispetto alle azioni umanitarie, la strategia comunicativa del farti sentire in colpa, tu mangi ma c'è qualcuno che non mangia, genera, magari può generare una generosità che però ti esclude dal sentirti veramente vicino all'altro, da sentire che l'altro è come te e che insieme potete condividere. Mentre l'economia basata sulla gratitudine in qualche modo ci rende ancora più vicini, cioè l'atto dell'aiutare non è un atto in qualche modo paternalistico, tieni, mangia, pover'uomo, ma è qualcosa basato proprio sulla condivisione. Quindi questi concetti che stai mettendo lì, la gratuità, la condivisione, la gratitudine, sono dei concetti positivi che forse, anche dal punto di vista della comunicazione, ci aprono delle nuove strade rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Ah, vedi, ci sono le persone che muoiono, tu invece occidentale ricco e cattivo. Mi piace capire come questi due concetti, quest'idea del caffè sospeso, ti ha in qualche modo ispirato all'idea dell'economia sospesa, ma da quell'ispirazione che cosa hai combinato, come si è trasferita a queste nazioni. Intanto mentre parlavi, Giulio, mi viene in mente un concetto che ti dicono all'università, l'homo economicus, cioè l'uomo razionale che fa scelte razionali. In realtà quando tu parli di quel momento dove tu lo stai scegliendo non tanto con la mente, ma col cuore, questo l'ho coniato io questo termine, quindi i professori mi raccomando, dall'uomo si parla all'omer economicus, cioè l'omer, quello dei Simpson, cioè quella persona che non è soltanto razionalità, ma anche lavora un po' di pancia, cioè un po' di cuore, no? Ed è bello questo, perché lì si esprime pienamente l'uomo, noi ci dimentichiamo questo passaggio. Per cui quello che ti ho detto, per arrivare alla tua domanda, insomma, è questo, cioè quando mi chiedono, no? Ma tu dove hai iniziato? Qual è il momento preciso? Non esiste un momento preciso nella mia vita, proprio perché, posso dire questo termine che da un po' di tempo sto usando, la vita, nel mio caso, mi sento che Dio mi ha preparato, mi ha preparato un percorso, a tutti funziona così, poi uno se ne accorge, se ne accorge più tardi, però c'è qualcosa che hai preparato, cioè in altri termini, una cosa che solo tu puoi fare, ma non perché sei speciale, sei migliore, perché tu sei stato pensato per fare quella cosa là, nel contesto di vita dove vivi, quello che hai studiato, le tue caratteristiche, i tuoi talenti. Allora, avendo visto tutto ciò che probabilmente ho raccontato, in Africa tante volte, Sud America, le esperienze che ho fatto con tanti amici, non soltanto in Italia, ma anche fuori, là ho compreso che la mia parte nel mondo non poteva essere esclusivamente il mio ombelico, ma c'è qualcosa che è molto più grande. E allora, dove è partito tutto? Tutta questa intuizione, come dicevi tu, del caffè sospeso, cioè di un concetto dove tu non ragioni soltanto perché devo fare un comportamento di risposta, ma semplicemente tu quella cosa la senti viva, allora mi ha portato poi a dire, va bene, adesso ci alziamo le maniche, come si dice, e vediamo cosa si può fare insieme. Quindi non mi è stato tutto chiaro dall'inizio, avevo una visione, la visione è quella che ci siamo detti, Rendere il mondo più giusto, e da lì capire, attraverso ciò che tu hai nel tuo sacco, cosa possiamo offrire? Allora, io ho fatto economia, ho fatto tante esperienze, mio fratello ad esempio Pierluca, che ha iniziato con me, è un ingegnere elettrotecnico, quindi lui mi ha dato la parte della possibilità, cioè noi abbiamo utilizzato il concetto che ti dicevo dell'economia sospesa, il concetto da gratuità, ma concretamente come fai? Attraverso lo sviluppo di un'applicazione. Per fare questa applicazione che si chiama Tucum, che è il nome di un anello che anche indosso e viene dal Brasile, serviva costituire un'impresa, ecco quello che dicevo un po' all'inizio, io non è che prima penso una cosa e poi la faccio, allora in base, tutto va insieme, cioè in base a quello che tu vuoi fare, ciò che sei, all'insieme costruisci qualcosa per migliorare. A me serviva non un SPA, non una società per azioni, ma serviva un'impresa sociale, perché il mio scopo non è arricchire me, il mio scopo era quello di aiutare gli altri a vivere un po' meglio, per cui l'impresa sociale era la persona giuridica migliore, no? E da lì abbiamo iniziato, sviluppando il software, quindi contattando una società informatica, le abbiamo presentato il progetto, l'abbiamo sviluppato. Ad oggi stiamo lavorando da più di cinque anni e siamo felici perché ci accorgiamo che passo dopo passo, non con poche fatiche, questo sogno che inizialmente era soltanto mio, adesso Don Bosco direbbe in quest'anno il sogno che fa sognare, che tra l'altro è un film che è uscito dal cinema, di quella, ora mi sfugge, il titolo di questo film, è un cartone animato molto bello, dove praticamente lei sogna, questa attrice, questa protagonista, questa ragazza, vede che intorno a sé tutti quanti non hanno più sogni e il suo sogno è che gli altri riprendino a sognare ed è bello secondo me, questo è il sogno che ci manca oggi, il sogno che non è soltanto mio, ma è un sogno che accende i sogni degli altri. Che cos'è Tukum? Che cosa significa questo termine e in pratica a che cosa serve? Tukum e questo anello viene dal Brasile ed è un anello che è molto particolare, anche molto delicato e di color nero semplicemente perché viene da... Tu ce l'hai? Ce l'ho adesso, sì. Ok, faccio vedere. Dove faccio vedere? Qua. Ah, questo qui. Ecco. Si riconosce. Un anellino nero. Un anellino molto semplice, di legno, noce di cocco, è un significato molto importante perché veniva usato dagli schiavi portoghesi, brasiliani, sotto dominazione portoghese ed erano per vivere dei momenti di fraternità fra di loro, no? Sposalizia, eccetera. Poi dopo la... dopo quando sono stati liberati chi indossava quest'anello lo indossava invece per senso di fraternità, cioè quasi per difesa degli ultimi, quindi sposava la causa dell'ultimo. Tra l'altro ha anche un significato filantropico perché per realizzare un singolo anello ci vuole un po' di tempo. Mi hanno detto un'ora, un'ora e mezza perché va preso dall'albero, va trattato, è molto fragile. Quindi, se si stringe troppo si rompe, se sei troppo largo scivola via. È un po' come le relazioni umane, vanno coltivate ma non vanno possedute. E questo anello significa tante cose. Quindi, una volta trovato il nome, dove il nome dice tanto, siamo partiti, nel nostro caso con un riferimento anche più evangelico, no? Che ci ha un po' mosso e da qui abbiamo detto va bene, allora riusciamo, dobbiamo cercare di realizzare mentre su carta quello che sogniamo. Quindi, questo nome di Tucum come riprende questo concetto? Mi piaceva come nome, se no va bene, l'abbiamo fatto. Quindi, quest'app cosa fa? Semplicemente permette a una collettività, a una società, di poter vivere gesti di gratuità, di dono, in maniera più mirata, in maniera più sicura, ma anche più umana, più dignitosa. Perché i passaggi sono questi. Noi abbiamo una comunità che dona, come se donasse un caffè. Però non dona il singolo caffè, ma dona l'equivalente, quindi un euro, due euro, quello che vuole, l'importo che desidera. Questi soldi arrivano, queste risorse arrivano in una comunità, che può essere una cooperativa, un'associazione, una parrocchia, che per noi diventano dei supervisori. I supervisori sono coloro che incontrano le famiglie sul territorio, conoscono le loro storie e quindi sanno un po' come poterle guidare in qualche modo. A questi supervisori noi diamo delle tessere, a tecnologia NFC cosiddetta, cioè contactless. Queste tessere sono caricate di... Come la carta di credito che abbiamo in tasca. Esattamente. so che non ci sono soldi, quindi non uso la carta per il POS, per il pagamento con i soldi, ma ci sono dei crediti. Quindi utilizzo questa carta per far parlare, questo chip, la carta con il cellulare. Quindi in questo modo cosa facciamo? Le risorse che noi abbiamo le trasformiamo in crediti, o 100 euro diventano 100 crediti, per semplificare, e con questi crediti la persona aiutata, la famiglia, stiamo vedendo molto di più le famiglie, vanno direttamente nei negozi. Quindi come dicevo all'inizio, non soltanto il caffè sospeso, che va benissimo, però alla fine serve anche curarsi, serve anche un taglio di capelli, può dare dignità, pensiamo a delle donne che magari vengono abusate. Noi abbiamo anche queste tipologie di povertà. Quindi la persona, la famiglia che riceve questa tessera, appunto è una tessera, cioè si sente parte di un progetto. Per primo luogo, in primo luogo perché versa una quota simbolica di 2 euro al mese. E quindi io scherzando dico, ma mica troppo, che i miei azionisti sono i poveri, che ci danno questa 2 euro al mese, e la quota di partecipazione. Poi con questa tessera che ricevono, ripeto, vanno quando vogliono, dove vogliono, come clienti normali, a spendere, come tu dicevi, come se fosse una carta di credito, perché anche nella fattezza proprio sembra una carta di credito. Ora, quel passaggio non è finito, perché l'altro motore, dicevo all'inizio, gli imprenditori devono fare la differenza, sono proprio gli imprenditori locali, che può essere la piccola macelleria di quartiere, il panificio, il farmacista, l'ottico, cioè il piccolo, anche negoziante, cosa fa? Sceglie di aderire al progetto in maniera gratuita, però cosa fa? Accoglie una famiglia, che diversamente non entrerebbe mai in quel negozio, perché non avrebbe la possibilità economica di farlo, accogliendola, riconosciano uno sconto minimo del 10%. L'esperienza ci dice non imporre la carità, cioè non imporre più che carità la bontà in questo senso, ci sono tantissimi che ci fanno il 20, il 30, il 40, di solito chi comincia a basso poi quasi si pente, lo alza, perché lui non sta, ripeto, prendendo qualcuno che paga, come il caffè sospeso e basta, ma sta accogliendo una famiglia, che è tutta un'altra cosa, perché se mi permetti, giuro, ti racconto tanto un episodio fatto a Brindisi, così siamo un po' più lontani da Roma, anche se in questo modo arriviamo per tutto, noi abbiamo una famiglia a Brindisi e a Gliutiamo dove una ragazza di 16 anni entrando in un negozio si è un po' aperta e ha detto alla commessa, insomma alla titolare, ha detto guarda io oggi sono qui a pagare con Tucumo, non qualcosa che è per me, ma un regalo che farò stasera a una mia amica, perché mio padre da quando ha perso il lavoro non riesco più ad andare a prendere regali, quindi sono mesi che non vado più alle feste di compleanno e per una 16enne, credo che questa sia molto importante, gli togli un po' di adolescenza. Allora cosa fa il progetto nostro? Restituisce la dignità attraverso tutta una società, tutta una comunità, quindi senza quei negozianti disponibili ad accogliere e anche fra virgolette a sacrificare un po' di guadagno, perché nessuno ci perde, sia chiaro, noi stiamo aiutando anche l'economia locale, stiamo facendo girare i soldi reali, però lo facciamo con questo spirito di condivisione che parte da tutti, da chi dona, da un supervisore che deve ovviamente accompagnare delle famiglie, negozianti che accogliendo queste famiglie lo fanno con spirito di gratuità. Come dicevi tu? Se io sono una persona in difficoltà, un chiamiamolo povero, ho la possibilità di rivolgermi a un di questi che voi chiamate supervisore, quindi una persona che lavora in realtà sociali a contatto con persone con difficoltà economiche e posso richiedergli questa tessera, ma quando la richiedo non è gratis, è una cosa che io pago attribuendo quindi anche un valore, perché sappiamo che quello che riceviamo gratis molte volte gli attribuiamo poco valore, quindi prendo questa tessera, pago una cifra ridicola che sono questi due euro al mese e questa tessera mi dà la capacità di spendere dei crediti immersi nel sistema, quindi del valore immesso nel sistema da altre persone che hanno voluto regalare generosamente la possibilità ad altri di acquistare cibo, generali alimentari in tutti i negozi che aderiscono, quindi non è che è una sola, dice io dono il pacco di pasta, perché a volte l'esempio della ragazza che comprava un regalo, a volte la povertà non è tanto non avere il piatto caldo, a volte ci sono delle povertà che ci frustrano ancora di più nel non poter dare da mangiare ai nostri figli, non poter comprare un giocattolo, non poter fare un regalo, non poter perdere quella rete che anche vive attraverso delle transazioni, della rete sociale, una rete di relazioni. Sì, è sentirsi esclusi, no? E vivono in maniera passiva perché non ho scelto, nessuno sceglie di essere, tra virgolette, povero, no? Quindi questo è un passaggio. Però ritorno su una cosa che hai detto perché per mia esperienza sto imparando quella 2 euro che per noi può sembrare simbolica, così molto semplice, in realtà non è ridicola, diciamo così, dal nostro punto di vista sì magari, però io ho partecipato a un momento a Treia, un comune che sta nelle Marche che lavora con noi, dove eravamo 6 famiglie, 4 straniere, 2 italiane, e una famiglia, se noi scegliamo i poveri tra i più poveri, qui non è che va il primo che va, c'è tutto un percorso da fare per prendere la tessera, questa famiglia talmente povera che in quel momento questa signora non aveva 2 euro, l'ho visto con i miei occhi, a fianco a me c'era un signore marocchino come nazionalità che veramente ho visto questa scena da brividi, ha detto guardate, aveva 5 euro, ha detto guardate, questo mese io pago il mio ma anche il mese della questa signora qua, cioè il povero ha fatto un gesto di gratuità pagando un mese sospeso di tessera, ma questo non l'ho pensato io quando ho fatto il progetto ovviamente, sono tutti dei meccanismi, delle reazioni, perché se tu abiliti l'uomo a riconoscersi umano, questo genere è bene e noi dobbiamo fare questo nella nostra vita, non fare progetti, io l'ho chiamato Tucumamo, potevi chiamarlo pure un altro modo, a me quello che interessa è il processo che si avvia, come direbbe anche Papa Francesco, il tempo superò lo spazio e tutto questo genere, no? Questo è importante e poi la testa appunto non va data proprio al primo che capita, ma proprio perché per questo motivo l'economia, chi studia economia sa, prima lezzi in microeconomia, primo anno, l'economia è una scienza bellissima, esatta, ma è scarsa, cioè non sono infinite le risorse, per cui non possiamo aiutare tutti i poveri di questo mondo, volendo sì, se i ricchi si mettessero una mano nella coscienza, però la realtà non è questa, per cui il senso è, e qua mi aggancio a quello che dicevi tu, se io vengo aiutato con Tucumamo, do quella duero che contribuisce al progetto come impresa, Però in qualche modo mi sto responsabilizzando, perché se l'ha data a me la tessera, tra virgolette, sta escludendo qualcun altro, quindi io mi devo attivare, non a stare lì tutta la mia vita con la tessera, ma devo fare tutto il possibile, trovare un lavoro, sganciarmi dal sistema di povertà, e far sì che un'altra persona, come ho fatto io, si senta più sereno e affronti la vita diversamente. C'è un limite alla loro capacità di spendere, nel senso che questa tessera ha un cap giornaliero, mensile, o ideato per tipo di merceologia? Molto interessante, per questo ci vorrebbe un sociologo che la risponde, non tanto io, però è interessante, in virtù di quello che ho detto anche prima, l'antropologo ce l'abbiamo, ci sta girando intorno. In virtù dello sconto, dove io dico, io ti impongo, impongo però grossa, un minimo, il concetto non ti dico approfitta dei poveri, però ti permetto di abilitarti a aumentare la coscienza del bene, ugualmente lo faccio per questo discorso qua, cioè noi consigliamo un valore di 150-200 crediti, perché il bene se lo devi fare lo devi sentire, l'ho visto anche in realtà che davano pochi crediti, mi sono arrabbiato, perché sarebbe offensivo, no? Ma tu dato una quota di 200 crediti, puoi dare anche di più, quando dico puoi dare di più, rimettiamo la pedagogia al supervisore, che ovviamente conosce la famiglia, bisogna e tutto. La cosa bella è, ci siamo resi conto che alcune famiglie spendono dopo due giorni tutto, altri, anche con figlie, vanno in maniera mirata, cioè sanno che se dalla Caritas, faccio l'esempio, ricevono i pacco viveri, perché il nostro aiuto è sempre integrativo, noi non è che arriviamo e facciamo i miracoli, ci vogliamo integrare a quello che già il bene viene fatto, no? Lui cosa va a fare con la testa tucu? Va in farmacia, perché quel farmaco non me lo posso prendere diversamente, va a farsi il taglio di capelli, perché c'è mia figlia che fa 18 anni e devo andare, quindi abbiamo visto alcune famiglie che riescono a risparmiare anche quel credito e noi abbiamo un sistema detto così di accumulo, quindi se io ho scelto dai 200 euro al mese, scusate, 200 crediti al mese, se io ho risparmiato 40 crediti, il mese successivo avrò 240 e questo, in forma così molto sottile, ti sta educando a gestire il tuo portafoglio, quindi quando tu avrai un lavoro, perché spesso tra virgolette i poveri sono anche così perché non sono educati alla finanza, quindi spendono tutto subito, eccetera, invece questo progetto in maniera anche un po' così intrinseca, ti educa a dire guarda, gestisci un po' le tue risorse, perché magari può succedere che in un momento di difficoltà tu devi attingere, non devi andare a chiedere. Per assurdo i sistemi di aiuto, di supporto, la carità, il fatto di dare o ricevere soldi che piovono dal cielo, a volte può penalizzare dal punto di vista psicologico e organizzativo nel lungo termine la tua capacità di utilizzare queste risorse. Te ne dico una che forse sai, in Australia quando dicono bisogna rimettere in moto l'economia, quando lo dicono in Italia bisogna rimettere in moto l'economia, oddio ci saranno nuove tasse, ci chiederanno più soldi, ecco, in Australia bisogna rimettere in moto l'economia vuol dire che ti arriverà un bonifico, ti arriva proprio sul conto corrente bancario, liquidità immessa, vedi della liquidità immessa dal cielo, non ci sono criteri, non ci sono richieste che devi fare, non sono bonus, sono bonus nel vero senso della parola, ti arriva, anzi vedi il bonifico prima ancora va al telegiornale, ah ecco che cos'era quel bonifico che ho ricevuto, la cosa assurda è che nel momento in cui tu ricevi questi soldi, questi soldi immediatamente li spendi, vai a prenotare le vacanze subito, vai a comprare una cosa extra, quindi il governo sceglie di immetterli, di mandarti un bonifico che tu in teoria potresti risparmiare perché sa che il soldo che tu ricevi non hai guadagnato, non hai pensato, non hai vissuto in maniera consapevole, lo vai subito a spendere e quindi tanto vale darlo al consumatore finale perché lui orienti secondo le logiche di mercato le sue scelte, qua invece è proprio il contrario, qua tu stai dando delle risorse piano piano andando anche a educare sulla spesa, dandogli quindi anche un strumento per usare meglio le risorse che attireranno attraverso il lavoro. Sì ma in parte mi ha illuminato adesso in questo esempio perché in realtà è molto simile, non lo conoscevo quello dell'Australia, io ho pensato al Mozambico che ora ti dico, perché in realtà il sospeso che è un concetto non mio di cento anni fa a Napoli quindi non c'ho questo però ti do credito, quello significa cioè ti do fiducia detto in maniera più romantica ed è molto simile, andrò a studiarlo il fenomeno australiano. Invece sulla carità data così mi è venuto in mente il Mozambico che è un paese che ho visitato e lì è successo questa cosa cioè i Mozambicani sono stati l'ultimo popolo africano a essere tolto dalla schiavitù anche qui stanno i portoghesi di mezzo cosa è successo però? Dopo hanno fatto guerra civile in questo tempo di guerra civile può immaginare confusione è tutto gli aiuti europei dell'America è tutto in più di vent'anni circa vent'anni il popolo Mozambicano è vero che poi è arrivato alla libertà diciamo e alla pace ma in questo vent'anni ha dimenticato il suo mestiere qui mi dicevano i missionari che ci hanno accolto lì dicono guardate il popolo Mozambicano ha legno buonissimo ma adesso non lo sa più lavorare perché le scuole sono state distrutte cosa fanno? ma non voglio criticare ma è il sistema devo dire la verità secondo me i cinesi stanno comprando l'Africa e va detta sta cosa il Mozambico non è esente da questo cosa fanno? vendono la materia prima alla Cina o altri paesi lo lavorano questo fuori e quindi lo importano già lavorato ed è a perdere questo perché cosa facciamo? allora ha un valore superiore a quello già realizzato è chiaro? quindi tu cosa fai paese? hai una risorsa che non sai più utilizzare a causa della guerra della cattiveria e tutto gli aiuti internazionali non mi hanno aiutato perché mi hanno dato soldi non mi hanno dato la capacità di costruire scuole alimentare un sistema di lavoro professionale e quindi capiamo che quello che dicevi tu è vero funziona così a livello individuale di famiglia l'assistenzialismo cosiddetto che poi va a finire anche con un paese queste sono cose reali mi ha colpito quando per la prima volta ho letto del dumping umanitario il dumping che è questa pratica di invasione del mercato offrendo un prodotto a un prezzo impossibile da fronteggiare per la concorrenza quindi io offro il mio prodotto quasi allo zero per tanti anni finché tutti i concorrenti falliscono con le loro aziende a quel punto sono il monopolista e alzo il prezzo questo addirittura è un fenomeno che si lega si chiama dumping umanitario quando questa pratica la possibilità di offrire un prodotto a costo zero va a distruggere offerto per scopi umanitari quindi portiamo il latte condensato in Mozambico per tutti offerto grazie dalla Nestlé e da tutti i benefattori occidentali poi di colpo stronca completamente l'industria locale magari della produzione del latte o di altre cose peggio addirittura ho sentito delle ripercussioni del latte artificiale rispetto all'allattamento latte artificiale regalato a fiumi per poi perdere l'abitudine la cultura dell'allattamento al seno creando poi enormi problemi allora andiamo abbiamo capito come funziona Tucum è curioso come a volte alcuni concetti alcuni alcune competenze che si maturano in ambito professionale noi possiamo sentirle in contrasto con quelle che sono le nostre convinzioni personali che emergono nel nostro percorso di crescita umana e anche spirituale ho visto frequentemente ragazzi che a un certo punto scoprono una propria missione come missione di vita e poi dicono basta io lascio il lavoro lascio quello che ho studiato vado a dedicarmi alla mia missione in modo staccato dal mio percorso tu invece mi stai diciamo stimolando un'altra visione una visione in cui tutto quello che hai inanellato nel tempo per quanto queste competenze che riguardano il vile denaro sembrano lontane dalla possibilità di cambiare il mondo in meglio aiutando gli esseri umani tu a un certo punto l'hai inanellate e hai anche raggiunto dei riconoscimenti esterni di queste cose buone che hai creato quali sono state le cose che ti hanno fatto capire che anche all'esterno le cose buone che stavi creando te insieme agli altri stavano avendo un impatto i poveri fratelli poveri non è una banalità la prima risposta che mi è venuta di solito sono quelle migliori quando registri un cd musicale la prima che registri è buona di solito poi si mettono ed è così io l'ho capito non si capisce mai ovviamente però l'intuizione l'hai confermata prima di tutto se tu stai a contatto lì dove il cuore ti batte e siccome a me batte verso i più poveri quando un fratello povero mi dice alcune confidenze mi dà alcune confidenze io capisco che sto sulla buona strada poi è chiaro quando ti arriva la telefonata della segretaria di Mattarella e ti dà un premio come un riconoscimento come Caviglia della Repubblica tu oltre che a piangere si grato tanto di questo che questo non è un esempio compatriare tu realmente sei Cavaliere della Repubblica Italiana sì sì questo è successo nel 2021 novembre o anche lo stesso Papa Francesco non può sembrare però siccome questa storia che sto raccontando e poi l'ho dovuto fare carne perché ho dovuto fare conti anche con tanti aspetti quindi ho scritto un paio di libri il primo è proprio la visione economica quindi si chiama l'economia sospesa il secondo libro ha a che fare proprio con la concretezza o meglio le motivazioni che ti spingono che si chiama luce in abbondanza questo secondo libro racconta il nostro viaggio che facciamo in strada nelle stazioni cioè stare con i più poveri quindi mangiare con loro se è possibile anche dormire con loro se non c'è da mangiare non mangi cioè non compri niente perché devi vivere un'esperienza proprio di provvidenza cioè come vivono in strada sappiamo no siccome poi quando ho proposto di fare la prefazione l'ho chiesta a Chiara Mirante che è una donna fantastica che ammiro tantissimo anche lì è stata premiata il stesso giorno mio con Mattarella lei mi ha risposto in qualche modo che era già occupata non poteva farmi la prefazione a questo secondo libro e un mio amico disse va bene prova a guardare più in alto e ho detto chi sta più in alto ed è il Papa è il Papa allora insomma per stringerla è successo questo il Papa ha accolto questa richiesta e ha firmato la prefazione al secondo libro e poi l'ho incontrato a marzo del 2023 ha detto tre cosette ha detto i poveri sono il tesoro della chiesa poi ho detto andate avanti e continuate così ora poi solo i marziani ci mancano adesso per conferma però scherzi a parte cioè vi fa ridere questa idea di che contro il Papa di Gesù la Santità cortesemente lui chiede una cosa non è che può scrivere la prefazione del mio libro? non è proprio così l'abbiamo richiesta con informi ufficiali e lui è interessato al progetto insomma come tutte le cose però sì poi se ci pensi torni indietro e dici mamma mia e la capisci che vale la pena andare avanti non sono tanti successi questi arrivano dopo magari ma nel durante devi scontrarti con tutta la realtà che come impresa sono il doverti sostendere in vita stare in piedi ma poi come anche motivazioni come lo scoraggiamento famoso quando anche chi pensi che ti debba aiutare nel caso mio magari chi già vive il no profit quel primo che ti dice male per tanti motivi per ferite magari che ha pregresse quindi le scarica su di te parlo come giovane adesso oppure come piccolo economista o piccolo imprenditore quando vedi grandi che l'unico consiglio che ti danno è ma tu riesci a fatturare riesci a fare i soldi dico no allora lascia non è quella la strada allora lì sta la forza tornare alle motivazioni cioè i volti incontrati le persone che ho stretto la mano che non vorrei commuovere nessuno ma tantissimi di quelli che ho incontrato oggi non ci sono più perché ho visto scena anche in Liberia con la madre Teresa di Calcutta lo raccolgono i senza vita cioè quelli denutriti con la lebre e tutto io ho visto persone scheletriche credetemi scheletriche io entravo e dicevo how are you? I'm fine I'm fine scherzavo e ridivano col pollice ho queste immagini e dicevo come fai a dire stai bene che stai morendo non stai respirando perché sempre le dicevano io ho vissuto una vita come un animale ora sto morendo come un angelo allora questo è il nostro passaggio permette alle persone che vivono una vita magari anche di sofferenza farle sentire quello che sono realmente allora se noi riusciamo a far passare questo anche nell'economia allora capiamo che tutto diventa sostenibile parliamo di impresa sociale che roba è? cioè è una forma giuridica c'ha come si fa a creare un'impresa sociale? prima ho detto una piccola imprecisione ma giusto perché la forma giuridica nel nostro caso è un SRL abbiamo scelto quella in realtà quella semplificata perché bisogna conoscere le leggi quando l'ho costituita la legge ci permettiva come semplificata di non pagare il notaio ho fatto quel passaggio è chiaro che la semplificata nostra era un passaggio perché poi c'è la legge del terzo settore del 2017 il cambiamento quindi il mio scopo era sempre quella la visione era quella fare un'impresa sociale quindi quella mi è servita ci siamo trasformati appunto lo stesso notaio che sono ripassato poi perché che succede? se tu ci metti il cuore oltre la professionalità io lo riconosco questo quindi non sono andata alla ricerca di altri notari nel mio caso e ogni volta se ho bisogno chiamo sempre lo stesso ovviamente lavorando pagando però il senso cos'è nasce un'amicizia sociale nasce un'amicizia anche nella professionalità la stessa cosa con il mio commercialista lo stesso lavoro lei si è messa ha capito il nostro scopo Etta si chiama siamo amici lo posso dire e lei da quando abbiamo iniziato praticamente ci accompagna in tutti i sensi ma si vede che lo fa col cuore e quindi così abbiamo fatto questa società impresa sociale trasformata dopo un anno minimo perché la legge ti dice questo e adesso siamo un'impresa sociale sei partito come SRLS c'è una trasformazione che di fatto è una nomenclatura di questa persona giuridica in camera di commercio sì o dal notaio noi abbiamo fatto dalla semplificata SRL semplice diciamo normale quella classica tradizionale e poi con l'oggetto che diventa imprese sociali quindi anche nella denominazione sociale noi siamo è anche interessante APP cioè appuntato app ACUTIS SRL impresa sociale questo è importante potremmo anche mettere TS che sta a dire enti del terzo settore perché siamo ufficialmente enti del terzo settore e quali sono le caratteristiche di questa impresa sociale? quelle basilari non della tua in generale dell'impresa sociale sì la caratteristica prima è che tu non hai utili da distribuire quindi i famosi dividendi in realtà c'è una piccola percentuale che è vicina al 2% però è chiaro che tu non lo fai per quel motivo questa è la mia caratteristica la seconda interessante che dove io ho guardato soprattutto a questa nel mio caso io non volevo dare l'idea che quel lavoro che sto facendo un domani magari può andare benissimo e tu ti stai arricchendo in virtù dei più poveri no questa sociale ti permette non distribuire i dividendi utili e poi la metà dei ricavi possono essere inviati dati per donazioni contributi che ne so missionari ad associazioni terze quindi fare del bene con attraverso il tuo lavoro e l'altra metà può essere data invece all'interno dell'impresa quindi io posso è quello che vorrò fare spero assumere persone che noi aiutiamo perché no oppure che so comprare dei macchinari o qualche strumentazione che ci può aiutare a fare meglio il lavoro quindi queste due caratteristiche sono interessanti e poi che principalmente poi ho studiato meglio no e poi il fatto di essere un ETS che mi permette di lavorare sia nel privato che nel pubblico mantenendo sempre un distacco quindi non c'è una certa imparzialità quindi posso partecipare a concorsi pubblici come posso stringere collaborazioni con privati e questa cosa mi permette di lavorare perché appunto chi lavora con noi sa che io lavoro in una direzione di bene comune questo mi toglie tante preoccupazioni abbiamo parlato dell'economia sospesa ma c'è un altro termine curioso che ho sentito nominare che è l'economia di Francesco che cos'è l'economia di Francesco? che bello l'economia di Francesco è un altro sogno che il Papa ci sta cercando di trasferire da quando ha iniziato il suo pontificato però nel 2019 a maggio ha scritto una lettera pubblica francescoeconomy.org il sito dove lui dice in buona sostanza agli economisti agli imprenditori giovani e i change makers cosiddetti sotto i 35 anni dite ragazzi ha detto ridiamo un'anima all'economia cioè lui chiede al modello di San Francesco di restituire l'economia la sua vera essenza che dal greco è gestione della casa non è ruberia non è deprovazione è gestione di una casa quindi io devo gestire la casa che è il mio mondo la mia economia come lo farebbe un padre di famiglia quindi il Papa ci scrive una lettera ci invita a tutti cosa succede? arriva la pandemia quindi l'incontro in presenza 2020 non si può fare 2021 si fa parzialmente nel 2022 lo incontriamo ad Assisi e il Papa incontra mille giovani in un teatro ad Assisi il teatro che c'è ad Assisi per la prima volta un Papa entra in un teatro incontra dei giovani tutti giovanissimi insomma e fa questo patto ci sono 12 punti che abbiamo stilato il patto viene firmato da una ragazza Lily è thailandese il nome intero non me lo fate di pronunciarlo Lily è la più giovane c'ha 16 anni questa ragazza firma per tutti noi lì cosa ha fatto? a 8 anni si è resa conto che quando andava a pulire nel fiume i suoi vestiti c'era la plastica che galleggiava vai oggi vai domani sempre plastica allora ha detto no io voglio un mondo pulito ha iniziato a togliere la plastica da sola le amiche hanno detto ma cosa fai? tolgo la plastica vieni con me con la cannua togli plastica togli plastica per farla breve nel giro di pochi anni è riuscita per mettere al suo paese al suo governo di emettere una legge che impedisce a dare la plastica così liberamente ma fare un ciclo sostenibile e ecologico ragazzina di 10 anni ha fatto sta cosa lei ha firmato per tutti noi il patto col papa di questa economia di Francesco appunto che è un'economia che guarda San Francesco che non era soltanto un fraticello che pregava e incontrava anche il cosiddetto sultano cioè chi non la pensa magari con la visione cristiana ma abbracciava il lebroso come sappiamo cioè al posto di andare incontro a quello che non piace quello significa e parlava anche col papa e parlava anche col papa se andiamo alla radice quel ragazzo che è iniziato si è iscritto al primo anno di economia ecco se potessi tornare indietro per un attimo incontrare il te stesso all'inizio del suo percorso con il desiderio di fare le cose ma anche tante magari tante incertezze che cosa ti consiglieresti di credere nell'intuizione che hai avuto io in realtà ho fatto agraria al primo anno perché come tanti ragazzi non sapeva bene cosa fare anche qui il professore che mi ha indicato la strada mi ha messo una passione nel cuore due in realtà uno in particolare mi mise 24 all'esame di matematica di fisica ma non meritavo 24 però questo è successo mi voleva bocciare e ho detto no professore ho studiato tanto non sono bravo in matematica però sono studiato tanto come lo dico mi ha detto ma glielo ho detto con una convinzione tale che ci credevo in quello che sei lui mi ha detto ti metto 24 perché voglio credere che tu possa fare meglio di così e ho sbagliato sul principio di Archimede la risposta che io ho pianto perché piango sempre ma l'ho capito che gli adulti cioè i più grandi devono credere in te stesso in te e quindi se io tornassi indietro che sono un po' più grande adesso direi a me stesso credi in te perché ce la puoi fare c'è una chicca in realtà che finì però lo diciamo al prossimo incontro magari se vorrai invitarmi dai dilla perché cosa fai con lo messo a spesa la testa non è tutto è che hai inventato niente allora oggi soprattutto in Italia la povertà sono due almeno almeno sono non hai una casa e non hai un lavoro sulla casa ci possiamo lavorare tantissimo ma è difficilissimo ma sul lavoro ecco noi abbiamo fatto stiamo sta uscendo a breve poche settimane una piattaforma per gli imprenditori abbiamo pensato anche a loro quelli per gli imprenditori che hanno capacità di assumere eccetera è una piattaforma che ti permette di offrire opportunità di lavoro a coloro che stanno facendo un percorso con Tucum della serie la metto così io ti incontro in strada sei molto povero oppure sei una famiglia veramente molto povera ti do questa testa ti do la possibilità di respirare diversamente di essere riconosciuto da società ti accompagno ma non ti dico finisce qua dico guarda se tu fai un cammino con noi qualche azienda magari che ci segnalano un'occupazione non so una disponibilità di un posto di lavoro in un'azienda operaia chissà io guarda noi selezioniamo le persone che hanno quelle skill quelle capacità a questo imprenditore che si fiderà non tanto di me Giandonato ma di quella realtà territoriale che garante di questa persona accompagnata che nel frattempo è stata anche aiutata si è stata un po' purificata nessun malessere a fare un colloquio di lavoro ed è già successo questo a Torino una persona è stata assunta attraverso la job questa è la piattaforma ha riconsegnato la tessera perché la tessera deve essere ridata dopo un po' deve essere data come se ti permetti di trovare un lavoro e essere autonomo e il business nostro che parliamo di impresa è i due euro famosi al mese un piccolo sconto che il negoziante sceglie liberamente di darci un contributo e poi la persona assunta ci restituisce simbolicamente l'1% è il suo stipendio non mi interessa se mi dà l'1% reale mi interessa che lui capisca che il suo lavoro può contribuire ad aiutare il progetto e quindi a dire alle altre famiglie come ce l'ho fatta io ce la puoi fare tu Giulio Gaudiano Strategia Digitale Strategia Digitale il podcast con storie idee consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo consapevole in modo consapevole strategia digitale punto info a cura di Giulio Gaudiano a cura di Giulio Gaudiano a cura di Giulio Gaudiano Grazie.